Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani. Oggi faremo una lettura angelica speciale, faremo una lettura angelica specifica sull'abbondanza. Utilizzeremo tre mazzi di carte, va bene? Allora, una riguarda, abbiamo le carte delle fate per vedere cosa ci vogliono dire per la vita che stiamo svolgendo, diciamo, se tutto è in linea con il nostro scopo, se tutte le cose stanno andando bene, quando si manifesteranno i nostri sogni e così via. Il secondo mazzo sono gli angeli dell'abbondanza, poi oggi abbiamo un terzo mazzo speciale, un mazzo che ho preso dall'America, e questo è un mazzo di Rhonda Barnes, che è l'autrice di The Secret. Diciamo che questo è un periodo molto intenso per me, dove sto facendo un grande lavoro di manifestazione e dove sto insegnando alle persone come manifestare i propri sogni. Vi parlerò del mio prossimo corso di manifestazione alla fine di questa lettura meravigliosa. Quindi oggi ho voluto dedicare la lettura alla manifestazione per aiutarvi a capire qual è la direzione più giusta per voi e per il vostro massimo bene. Naturalmente sempre con l'aiuto, la protezione, la guida e l'assistenza dell'arcangelo Michele. Bene, iniziamo la nostra fantastica lettura. Ok, e poi sceglierò una carta finale dal mazzo della legge dell'attrazione. Ok, sono le carte di Esther e Jerry X. Ok, non so come si pronuncia. Va bene, iniziamo. Invoco la divina presenza di Dio Dea, Onnipotente, Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi, il sé superiore di tutte le anime che con tanto amore mi seguono. Invoco te, Arcangelo Michele, Maestro Gesù, Maria, Regina Celeste, Coscienza Michaelica. E con amore vero, puro e sincero, vi chiedo, con amore vero, puro e sincero, vi chiedo di purificare la nostra energia, le nostre intenzioni, parole d'azione, di liberarci dall'ego, dalla paura, dal giudizio, dalla competizione, da tutte le energie egoiche di paura che ci stanno impedendo di vibrare nella gioia, nella ricchezza, nella prosperità, nell'abbondanza, nella salute perfetta, affinché possiamo ricevere benedizioni infinite, liberaci da tutto ciò che ci sta impedendo questo. Con amore vi chiedo di radicare la nostra energia fino al centro della madre terra, di sintonizzare le nostre frequenze, nella frequenza della gioia e dell'abbondanza e dell'amore più puro, ed incondizionato, e di creare uno scudo di protezione completo, impenetrabile all'oscurità, dove possa entrare solo la luce, l'amore più puro e vero, di Dio Dea, onnipotente padre e madre. Grazie caro Dio, grazie Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, grazie coscienza Michaelica, è fatto, è fatto, è fatto, e così è, così sia, ora, per sempre, per l'eternità. Ecco, ragazzi, la legge dell'attrazione naturalmente ci fa tirare anche le carte che ci spiegano cosa dobbiamo fare per manifestare affermazioni positive, per manifestare i nostri sogni, c'è chi già le sta usando, intensificare è la cosa giusta, esprimere la tua individualità, ok? Ascoltate quello che gli angeli hanno da dirvi, poi terza carta, bambini, che ha a che vedere col bambino interiore. Ora, vediamo cosa ci vogliono dire gli angeli dell'abbondanza, che sono frequenze angeliche che ci aiutano, appunto, ci danno dei consigli sull'abbondanza. Stop con le lamentele, un modo per elevare le vostre frequenze è quello di smettere di lamentarsi. Concentrati sulle tue priorità Cooperazione anziché competizione E queste sono regole fondamentali quando si vuole lavorare sull'abbondanza, perché l'ego ci fa competere, l'ego ci abbassa le frequenze, invece per manifestare ricchezza e abbondanza bisogna assolutamente elevare la vibrazione, uscendo appunto dalla competizione, dal giudizio e da tutte quelle basse frequenze che poi ci allontanano dai nostri sogni. Vediamo le carte di Rhonda Barnes, che io adoro veramente, le carte della legge dell'attrazione, danno dei messaggi veramente potenzianti in nome dell'amore. Vediamo un po' il mondo ha bisogno della tua felicità. Poi andiamo a vedere, vediamo un po' gli angeli in aggiunta ai messaggi delle carte, cosa ci vogliono dire, va bene. Opla, sono cadute troppe carte, quindi non le posso prendere in considerazione, perché sono parecchie. Se non sbaglio sono, qua non c'è scritto, però una sessantina di carte, sono veramente tante. Vediamo un po'. I soldi arrivano a me facilmente. Poi andiamo a capire cosa significa, no? Credo che sia tutto concentrato nella prima carta, quando gli angeli ci hanno detto di affermare quello che vogliamo, ok? Proclama, proclama questo per crearlo, va bene, ok? Bene, adesso vediamo un po'. Leggerò proprio i messaggi delle carte, delle carte della legge dell'attrazione, e in più poi aggiungerò i messaggi degli angeli. Mettiamola così, è un'energia molto potente, quella che sta arrivando e che è ora presente in questo piano della Terra. Un'energia di manifestazione molto più potente, perché rispetto a 50 anni fa, rispetto a 10 anni fa, dove per manifestare ci volevano veramente anni di affermazioni, anni di preghiera, anni di riprogrammazione, adesso i tempi stanno accelerando, le energie sono più potenti, più forti e più in nostro favore. Nel bene e nel male, nel senso che se voi pensate in negativo, manifestate più velocemente le cose negative. Mentre invece se ci focalizziamo su ciò che vogliamo veramente, su ciò che desideriamo, su ciò che vogliamo essere, perché si tratta di essere abbondanza, di essere ricchezza, di essere gioia, allora tutto arriverà in una maniera molto molto più veloce, in maniera più, non di quest'antanea ma quasi. Naturalmente dipende da quanti blocchi, sistemi di credenze abbiamo, però voi creatori della vostra realtà, molti di voi sono creatori consapevoli, sapete benissimo, almeno spero, per chi non lo dovesse sapere, noi creiamo la nostra realtà consapevolmente o inconsapevolmente, siamo responsabili di tutto ciò che attiriamo nella nostra vita, quindi anche le cose brutte, bene sì, non a livello consapevole, attiriamo quello che non vogliamo se nell'inconscio ci sono dei programmi che vincono sulla nostra volontà, quindi noi dobbiamo riprogrammare affinché possiamo dare nuove informazioni all'inconscio. L'inconscio non fa differenza tra ciò che è vero e ciò che noi ripetiamo, ok, e portiamo in una condizione di convincere l'inconscio a una certa situazione di verità, nel senso che, mi sono spiegata male, l'inconscio non riconosce ciò che è intensamente immaginato da ciò che è reale, quindi questo cosa vuol dire? Che se noi ripetiamo e affermiamo più volte al presente, come che già qui ed ora io sono sana, io sono felice, anche se in questo momento non sei nella salute, non sei felice, affermare che tu sei sana e felice all'infinito, fino a quando non manifesterai questa realtà, è necessario per cambiare le condizioni della tua vita, quindi grazie perché sono sana, integra e completa, grazie perché sono ricca, grazie perché sono felice e cercare di portare la nostra energia in una condizione di gratitudine e di gioia, le affermazioni positive nella gioia cambiano veramente la realtà molto più velocemente, va bene, ma come fare? Ecco, diciamo, le tecniche di manifestazione sono infinite, dicono gli angeli, però bisogna trovare quelle più efficaci per noi, quelle più giuste per noi, che ci portano in questa condizione di gioia e di abbondanza più velocemente. Mettiamola così, su internet c'è veramente di tutto, potete scegliere voi gli strumenti più giusti per voi, oppure seguire dei corsi, come ho fatto io, per capire come fare per manifestare attraverso la riprogrammazione mentale ed energetica, perché non è solo la mente che crea, è anche il sentire, è l'intero nostro campo energetico che deve vibrare nella stessa frequenza dei nostri sogni e dei nostri obiettivi, ok? Esprimi un consiglio degli angeli per manifestare i tuoi sogni, esprimi chi tu sei, perché se la tua è una missione di operatore olistico, fai vedere al mondo chi sei, fai sentire la tua voce, se sei un cantante inizia a far sentire la tua musica, la tua voce al mondo, il mondo ha bisogno di sapere chi tu sei, se tu devi affermarti in un'azienda, fatti conoscere, fai vedere la tua grandezza a chi ti deve assumere, a chi ti deve promuovere, è un esempio, ognuno ha i suoi sogni, i suoi progetti, i suoi obiettivi, è venuto il momento di condividere chi tu sei al mondo, va bene? Ok? Il tuo bambino interiore sta urlando per manifestare necessario ascoltare il bambino che vuole giocare alla vita, il tuo bambino, la tua bambina interiore vogliono esprimere la gioia, vogliono giocare, quindi devi fare quello che ti dà gioia, ti dà gioia a cantare, metti la musica e canta, ti dà gioia a ballare, balla, ti dà gioia a fare una passeggiata nella natura, vai a farla, non dire devo fare questo, devo fare quello, devo fare quell'altro, per piacere ascolta il bambino perché se no, se tu pensi solo al dovere, per così dire, il bambino interiore ostacola la tua creazione perché tu non lo stai ascoltando, ricordati che il bambino interiore è la porta di interconnessione tra la tua parte umana e la tua parte divina, tra la tua parte adulta e la tua parte creativa, quindi per non avere blocchi nella creatività, per non avere blocchi nella manifestazione dell'abbondanza, ascolta il bambino perché il bambino gioca, il bambino è creativo, il bambino prova gioia, la bambina e il bambino in generale e quindi è quella la frequenza che tu devi emanare all'universo se vuoi manifestare i tuoi sogni, poi i consigli, consigli pratici dagli angeli dell'abbondanza, basta lamentarsi, scusate, basta dire eh ma come non funziona la legge della trazione, non è vero, hai lavorato per 21 giorni con le affermazioni, dai 21 ai 3 mesi hai fatto questo lavoro energetico, tutti i santi giorni ti sei connessa con la gioia, hai contrastato i tuoi pensieri negativi con 10.000 pensieri positivi, un pensiero negativo ne devi fare almeno 100 positivi, cioè ti devi allenare come andare in palestra, vuoi cambiare la tua vita e questo è il lavoro spirituale da fare e la basta con le lamentele, tanto le lamentele ti buttano giù, buttano giù te e tutte le persone intorno a te, quindi fai un bel lavoro di pulizia, uno strumento molto valido per fare questo è il logo sealing, ragazzi voglio dire chi non riesce da solo deve trovare un aiuto, se non volete farlo con me userete altre tecniche, però il logo sealing è tra le tecniche più potenti che io conosco, anzi credo che sia la più potente per eliminare le energie negative, le emozioni negative, quindi ti stai lamentando perché sei arrabbiata per questo, quello, quello, quell'altro, ti hanno fatto questo, ti hanno fatto quello, è subito una violenza e questo, quell'altro, devi cambiare l'energia se vuoi l'abbondanza, l'abbondanza non riguarda solo l'aspetto economico, abbondanza è amore, il partner di vita, la partner di vita, abbondanza sono le amicizie, abbondanza è la gioia, la creatività, il successo, la carriera che vuoi veramente, fare il lavoro che ami, seguire lo scopo della tua vita e la ricchezza economica, tutti questi sono aspetti dell'abbondanza, ok? Concentrati sulle tue priorità, cioè energeticamente ti devi preparare per manifestare, ti faccio un esempio, è meglio che se tu devi agire in una certa direzione, se sei nella lamentela, stai fermo, non fare proprio niente, cambia l'energia, sintonizzati nella frequenza della gioia dell'abbondanza, esci a fare una passeggiata, ascolta il bambino o la bambina interiore come ti hanno già detto gli angeli e quando sei nella gioia agisci e agisci seguendo le tue priorità, è questo che devi fare, ok? Anima infinita? Bene, un altro aspetto, se lavori in team o hai dei colleghi di lavoro poco simpatici, qualunque sia la questione, lascia andare la competizione e lascia andare persone competitive che magari ti stanno soffocando e ti fanno stare male, taglia le corde, esci anche tu da questo competere, lascia andare, perché se c'è qualcuno con cui devi competere quello sei tu, nel senso che devi dare il meglio di te per te stesso, non devi dimostrare niente a nessuno, la competizione è una frequenza sbagliata, nel senso che non è allineata la luce all'amore, non ha niente a che vedere con la luce e con l'amore, i veri sportivi più grandi, i numeri uno al mondo, cercano di superare i propri limiti, non devono competere con Tizio, Caio e Sempronio, cercano di dare il meglio di sé per superare i propri limiti, per raggiungere i massimi livelli e questo può essere fatto in tutti gli aspetti della nostra vita, nello sport, nella carriera, nelle amicizie, in tutto ciò che noi desideriamo, ok? E non c'è niente di sbagliato a voler essere al top, in qualsiasi aspetto che tu senti essere giusto o giusto per te, ok? Il mondo ha bisogno della tua felicità, ok? Questo è per chi si lamenta, infatti è uscita nello stesso piano, no? Affermazioni, esci dalla lamentela e ora il mondo ha bisogno della tua felicità. Una vita di sofferenza o di infelicità è una vita priva di tutte le cose che tu vuoi, tu vuoi altro, no? Questo non aiuta il mondo, non aiuta il mondo, la tua sofferenza non aiuta il pianeta ad evolvere. La tua felicità, la tua abbondanza e la tua vita vissuta nel pieno, nel pieno delle tue facoltà, delle tue capacità, delle tue aspettative, dei tuoi obiettivi, ecco che questo riempie il mondo di luce, di amore, di bellezza, di abbondanza, di gioia, di entusiasmo. Ragazzi, è una cosa bellissima, queste carte io le adoro. Allora, i tuoi soldi arrivano a me facilmente e velocemente, ok? Molte persone sono convinte che i soldi arrivano solo attraverso un lavoro, cioè io lavoro 8 ore e ricevo il mio stipendio, ok? Questi sono credenze, sistemi di credenze che ormai sono obsoleti, bisogna lasciarne andare. I soldi possono arrivare da infinite possibilità, bisogna aprirsi a ricevere, ok? Assolutamente. Diciamo che ci sono persone che addirittura guadagnano mentre dormono o hanno rendite passive perché hanno creato dei business diversi da quelli tradizionali. Uscire dal mondo tradizionale ti consentirà di non legare il concetto di energia monetaria al tempo che dedichi per guadagnare quell'energia monetaria. Capite? Si può lavorare meno e guadagnare di più, ok? Ma è un discorso di credenze. Guardate, già come l'ho detto, io già in anticipo sento le vostre resistenze, però se voi volete vivere nell'abbondanza, allora voglio dire, i milionari, quelli che guadagnano milioni di euro dovrebbero lavorare milioni di ore, ma non è così, capite? È proprio un discorso di mindset, un discorso di energia. Però voglio dire, io posso capire per una persona che è disoccupata, sentire parlare di milioni di euro, dice ma che stai a di, no? Ma perché vibra? Sicuramente una persona disoccupata sta vibrando in una frequenza molto bassa. Quindi cambiando frequenza magari da zero uno può ambire a 1.500, da 1.500 un'altra persona poi può ambire a 3.000, 5.000 e poi magari anche a cifre più alte. Sono degli step da percorrere. La legge dell'attrazione funziona per tutti. Noi abbiamo un grande potere, io ve lo dico col cuore, che voi crediate o non crediate avete sempre ragione. Che voi credete nella legge dell'attrazione o che non ci credete funziona uguale. Sta a voi se prendere la palla al balzo e utilizzarla in vostro favore. Ok? Naturalmente questa è una lettura per le anime che vogliono abbondanza, va bene? L'abbondanza è benedetta. Cerchiamo di eliminare le credenze che dicono che l'abbondanza è sbagliata perché Dio è abbondanza. Dio è amore e abbondanza. Ok? Quindi cerca di proclamare, cioè invoca quello che tu desideri. Ok? Per poter accelerare la tua manifestazione, pensa, parla e scrivi i tuoi desideri nel momento presente. Ok? Io ho tutti i soldi di cui ho bisogno. Aggiungerei sono grata, felice ed entusiasta perché ho tutti i soldi che mi servono per essere libera e felice. Questa è una formazione potente e più osate e più l'universo vi manderà quello che voi state chiedendo. Ok? L'universo vi darà tutto quello che chiedete molto velocemente. I tempi sono maturi, ora state scegliere dove vuoi andare, cosa vuoi creare. Che bella questa lettura, vero? Bene, vediamo un po' le carte di Jerry e Wester. Aspettate, questa non è una carta. Leggeremo il messaggio, giustamente. C'è già il messaggio scritto e in inglese cercherò di tradurlo, naturalmente nel mio modo, in base al mio sentire. Ecco che è uscita la carta. Vediamo un po'. Ok, io posso seguire il sentire, quindi io posso seguire o i buoni, o il buon, scusa, io posso sentire quello che, posso seguire quello che sento nel bene e nel male, va bene? Quindi un buon, se io ho delle buone sensazioni, vuol dire che sono nella strada giusta. Il significato è questo. La maggior parte delle persone mettono tutto ciò che guadagnano, tutti i soldi che guadagnano, nella categoria, queste sono le cose che devo fare. Ok? Ed è per questo che i soldi alle volte arrivano in una maniera molto, molto difficile. Se tu sei abbastanza saggio, ok, nel seguire le tue sensazioni legate ai tuoi pensieri, qua stiamo parlando di pensare quello che voglio manifestare e sentire che è possibile. perché se il mio sentire è, insieme ai miei pensieri, un sentire giusto, un sentire di amore, di gioia e di gratitudine, per forza l'universo mi fa manifestare quello che voglio. Capite? Funziona! Non è uno scherzo, funziona veramente. È che molte persone dicono, eh, stai fresca che funziona, però non ci provano, non ci provate. Dovete provarci per cambiare la vostra vita, se volete cambiare la vostra vita, no? Ok, quindi il giusto sentire, il sentire di gioia, no? Affinché in maniera deliberata guardi gli aspetti positivi, diciamo che tu stai, gli aspetti positivi della tua vita, ok? Quindi, quando tu pensi positivo, ok, senti gioia e gratitudine, la tua energia inizierà ad allinearsi vibrazionalmente con chi tu sei veramente, aggiungerei nella tua completezza e totalità, e in allineamento alle cose che tu vuoi manifestare nella tua vita. L'universo, per forza, ti darà quello che stai chiedendo. I tuoi desideri saranno soddisfatti. Questa è la carta di un labirinto. Usciamo dal labirinto, allineiamo le energie e manifestiamo la nostra realtà. La legge dell'attrazione non è una cavolata, la legge dell'attrazione è una legge, una legge universale, valida come tutte le leggi universali, va bene? Poi adesso c'è chi la chiama legge della risonanza e gli dà un altro nome, o la chiamano legge della vibrazione, siamo sempre lì. Il concetto è questo, va bene? Che un pensiero focalizzato, con un'energia positiva, molto intensa, un'emozione alta, per alta si intende gratitudine e gioia, porta l'intero universo a manifestare ciò che desideriamo. Naturalmente lo dobbiamo fare ripetutamente ogni giorno, però non ha senso, non è che provo un secondo di gioia e poi tutto il giorno mi lamento dalla mattina alla sera, no? Io devo cercare di arrivare a vibrare nella gioia minimo minimo un 70-80% ogni singolo giorno. Per 21 giorni diventa un'abitudine per l'inconscio, quindi l'inconscio smette anche di avere pensieri negativi, e questo è bellissimo, ed emozioni negative. Quindi l'inconscio all'inizio crea, io ve lo dico, all'inizio avrete tante di quelle resistenze, anzi vi sembrerà quasi impossibile, dovete essere tenaci, tenaci, tenaci e andare avanti. Quindi da 21 giorni a tre mesi di riprogrammazione e diciamo che poi la vostra vita può veramente cambiare. Parlo delle cose abbastanza grandi, per le cose piccole alle volte si manifesta anche in un giorno, in tre secondi, come manifestare un parcheggio, una telefonata, magari anche un'entrata economica improvvisa, può succedere, però sono casi così, che capitano così, però per avere un'abbondanza vera e manifestare sincronicità, eventi meravigliosi. Ragazzi, oggi, non sto scherzando, questo voglio condividerlo, io ultimamente sono veramente fortunatissima con i parcheggi, ma perché sono fortunata? Perché dico che sono fortunata, perché affermo di essere fortunata e perché ringrazio per tutta la bellezza che c'è nella mia vita. E quindi le persone iniziano ad essere tutte gentili con me, cioè oggi mi trovavo davanti alla Conad, il parcheggio è veramente piccolo, e non riuscivo a trovare un parcheggio, ho detto ma insomma Arcangelo Michele, beh in tre secondi ha bussato un signore nel finestrino e ha detto signora sto andando via e mi ha lasciato il parcheggio. Ragazzi, non sono fesserie, sono cose meravigliose che addolciscono la tua vita, ma per essere così tu devi essere già addolcita, devi essere già gioiosa, gioiosa, devi essere già grata, non è che sei arrabbiata e ti arriva l'angelo che ti dà il parcheggio, se sei arrabbiata molto probabilmente stai due o tre ore a girare intorno e non riesci a trovarlo, magari lo trovi anche, però non è la frequenza della gioia, ok? E vi spiego, questo è importante perché molte persone manifestano quello che vogliono, non riescono, magari anche con il duro lavoro, perché oltre l'energia c'è anche l'azione, no? Questo è importante, vorrei precisare, bisogna anche agire nella direzione dei tuoi sogni, però prima energeticamente mi preparo, poi agisco e poi tutto si manifesta, però a parte questo ci sono persone che manifestano magari grandi ricchezze, o anche il compagno o la compagna di vita ideale e non se la godono, vivono nella rabbia costante, nella tristezza, nell'abbandono, magari hanno a fianco la persona giù, che potrebbe essere quella giusta, non se la godono e la perdono, la perdono perché? Perché non sono grati alla vita di avere una grande cosa, una grande cosa al proprio fianco. Guardate, mentre facevo, adesso mi viene di parlare d'abbondanza, farò anche dei video su questo, però voglio dire, da poco parlavo con una ragazza, una persona a me cara, e le dicevo, guarda, se tu adesso ne guadagni 1.500 di euro, ambire a un milione di euro, io non metto limiti a te, però ti parlo per me, quando guadagnavo quella cifra, per me pensare a una cifra esorbitante mi creava contrasto, resistenze molto grandi che quindi magari mi scoraggiavano anche, ma perché? Perché se io non mi sento degna e meritevole di una grandezza smisurata, poi non ha importanza che uno ambisca la grandezza smisurata, c'è bisogno di persone spirituali allineate che abbiano quel tipo di abbondanza perché possono aiutare l'umanità. Quindi, torniamo a noi. Se io ho un bicchiere piccolino e quell'abbondanza è una tonnellata di, cioè, voglio dire, un bicchiere, allora io riesco a contenere acqua in un bicchiere, io sono come un bicchiere, la bottiglia, ok, è piena d'acqua, questo è un milione di euro, il bicchiere, il bicchiere è 1500 euro, io non posso mettere un milione di euro in un bicchierino da 1500 euro, perché se io riesco ad accettare nelle mie credenze che io sono degna e meritevole solo di questo, che me lo sto sudando e sono orgogliosa, i ricchi non valgono niente, i ricchi sono malvagie, la ricchezza è sbagliata e così via, tutte queste credenze mi impediranno di attingere a questo. E se io dovesse anche riuscire a fare una vincita al super enalotto, ma il mio bicchiere, o meglio, il mio essere accetta solo una cifra pari a 1500, tutto il liquido verrà disperso, quindi tutta l'abbondanza verrà sperperata, io non riuscirò a mantenere nessuna ricchezza, ci vuole, bisogna sentirsi degni e meritevoli di ricevere 1500, 3000, 5000, 100.000, un milione, quello che volete. Bisogna sentirsi degni e meritevoli di essere sani, bisogna sentirsi degni e meritevoli di trovare l'anima gemella, bisogna sentirsi degni e meritevoli di trovare amici veri, puri e sinceri, bisogna sentirsi degni e meritevoli per tutto quello che voi desiderate. Questo è un mindset, è anche un livello energetico, cinestetico, di sensazioni, di sentimenti che si possono raggiungere facendo un lavoro energetico-spirituale. Allora, la lettura si è conclusa, ve lo dico, però per chi vuole rimanere vorrei precisare che io insegno delle tecniche di manifestazione semplici, ma di una potenza unica che possono cambiare la vostra vita se le applicate. E come dire, anime infinite, vado in palestra tre giorni e non dimagrisco, la palestra non funziona. No, la palestra funziona, ma devi andare tre, quattro volte a settimana costantemente. Ebbene, lo stesso vale per le affermazioni, per le affermazioni e per le pratiche spirituali per manifestare l'abbondanza, va bene? Affermazioni, lo potete fare anche senza di me, però pensate che è bello fare un percorso, sto valutando se di dieci o di dodici settimane, credo che sia di dodici, perché voglio allungare i tempi per far sì che le persone registrino nell'inconscio tutte le informazioni che porteremo. Faremo un grande lavoro con Logo Sealing per eliminare i blocchi, le paure, i sistemi di credenze, consci, subconsci ed inconsci, che vi stanno impedendo di manifestare l'abbondanza che volete, che meritate per diritto di nascita. Lavoreremo su la riprogrammazione, quindi andremo ad utilizzare il tapping più le affermazioni con la gioia, affermandole al presente. Faremo questo grande lavoro e in più faremo il lavoro sulla gratitudine e in più faremo il processo di liberazione e in più registreremo il nostro processo di, no scusate, il processo di, perdonatevi, di manifestazione, che è una preghiera potentissima dove ci sono tutti i vostri desideri. Quindi, questo è un insieme di technique, faremo il quadro delle visioni, quindi insomma in 12 settimane faremo, useremo 4-5 strumenti in sinergia utilizzati tutti i giorni, farete anche i compitini a casa dedicando 20 minuti, mezz'ora, un'ora al giorno da 0 a 12 settimane io sono certa che inizierete a vedere cambiare tante cose nella vostra vita. questo corso sarà online su Zoom, va bene, massimo 15-20 persone, non di più. Quindi inizieremo il 29 febbraio 2024. se sei interessato, se sei interessata a fare questo corso meraviglioso, non esitare a contattarmi perché questi strumenti, se sei pronto per allenarti spiritualmente, vuoi veramente cambiare la tua vita, questo lavoro può veramente far sì che tu possa avere una svolta straordinaria nel tuo percorso di vita. Bene, io vi saluto anime meravigliose, vi abbraccio col cuore e ci sentiamo presto. Un bacione a tutti e a tutte. Ciao ciao!